Rom Startup Week abbiamo un panel molto interessante in cui si è parlato di finanza ed è Capitali Coraggiosi. Ecco una delle persone che ho trovato più interessanti nella sua esposizione che ci racconterà che cosa è successo principalmente durante questo panel. Io sono Ionatan Pacifici, vengo da Israele dove dirigo un fondo di Venture Capital e per me come potete immaginare da italiano e da romano è sempre una grande felicità essere qui a Roma e vedere come sta evolvendo l'ecosistema locale. Devo dire che ho visto parecchie belle idee e soprattutto una disponibilità anche delle istituzioni di incrementare l'impatto e l'impegno economico nei confronti del settore e quindi anche la capacità di liberare capitali da investire. Credo anche che stia crescendo la consapevolezza della necessità di utilizzare quei benchmark internazionali e di avvicinare quanto più possibile il mercato italiano al mercato internazionale. Resta ancora molto da fare soprattutto sulla tipologia di investimenti e sull'attitude potremmo dire degli imprenditori che devono imparare a usare magari un pochino di più. Abbiamo visto anche un discorso sui fondi pensionistici che hanno delle limitazioni, delle critiche, molto controversa la questione dell'utilizzo delle start-up come forma di investimento nonostante il possibile ritorno sotto lavoro e sotto tanti altri aspetti economici. Il capitale al rischio è, by definition, capitale al rischio e quindi come tale è difficile legarlo a dei termini di redditività assoluti. A me fa un po' ridere anche quando alcuni dei nostri investor mi chiedono che ritorni ti aspetti perché se ti aspetti di determinati ritorni probabilmente dovresti fare un altro mestiere. In venture capital ci devi credere e devi avere la pazienza di portare i risultati. Non è necessariamente detto che i fondi pensioni debbano essere gli investitori di fondi di venture capital. Il problema è che in un paese nel quale gli altri non fanno questo tipo di investimenti allora sì c'è questo tipo di criticità.